Ciao a tutti, sono Elvise, studente padovano dell'Università di Utrecht. Oggi volevo solo raccontarvi dell'emergenza del coronavirus in Olanda e nei paesi esteri. Il 13 marzo l'Olanda e il governo ha emanato la chiusura di scuole e università, per cui la mia Università di Utrecht ha preso programmi e sistemi innovativi per farci studiare digitalmente. Ho poi considerato il fatto di ritornare in Italia, perché vivendo in uno studentato di 500 studenti mi sono accorto dell'alta presenza di persone che viaggiano per lavoro e per studio, per cui ho considerato una potenziale presenza del coronavirus. Sono quindi tornato in Italia, però ho riscontrato alcuni problemi, perché il weekend l'Olanda, il governo olandese, ha chiuso bar, ristoranti e zone pubbliche, ha cancellato tutti i voli diretti per l'Italia e da lunedì ha chiuso i confini. Ho dovuto quindi arrangiarmi e trovare un volo da Colonia per Venezia. Fortunatamente la Germania aveva ancora permesso alcuni voli per l'Italia, per cui prendendo il treno da Utrecht a Colonia sono arrivato all'aeroporto, dove non ci hanno controllato in nessun modo, hanno solo consigliato di mantenere la distanza di un metro tra una persona e l'altra e ovviamente tornato a Venezia, quindi in Italia, sono stato sottoposto alla misura della temperatura corporea e ho firmato l'autodichiarazione per il ritorno al proprio domicilio. Sono ora a casa in quarantena con la famiglia, anch'io sto studiando digitalmente fino a data da destinarsi e anch'io posso lavorare in versione smart working da casa. Resto a casa e insieme ce la faremo. Resto a casa e insieme ce la faremo.